Buongiorno a tutti qui su Televive. Abbiamo con noi ospiti oggi il dottore Andrea Lucarelli, dottore in fisica, un ricercatore. Ciao Andrea. Ciao. Allora dunque, oggi sei qui perché vogliamo parlare di un argomento in particolare, ovvero della recente scoperta di questo bosone di X, cosiddetto anche la particella di Dio. Io inizierai a questo punto a chiederti come mai c'è stato questo grande interesse mediatico nei riguardi di questa scoperta e quindi di conseguenza che cos'è un bosone. Diciamo che c'è un duplice aspetto della questione. Da una parte c'è un enorme interesse scientifico per la scoperta di per sé di una particella che completa il quadro del modello standard, che è il modello di riferimento della fisica delle particelle. Era molto tempo che si cercava questa particella, era particolarmente difficile da trovare e ha creato non pochi grattacapi ai fisici delle particelle di tutto il mondo. E quindi questo, dal punto di vista scientifico, è stato un momento molto importante. Dall'altro c'è un interesse mediatico enorme sulla questione perché questa particella è stata definita la particella di Dio, anche per un malinteso o per un tentativo di suscitare maggiore interesse fatto da un editore, che è quello che ha dato il nome particella di Dio a questo bosone, su un libro scritto da Lederman, che è un premio Nobel nel campo della fisica il quale, penso di intitolare il suo libro all'inizio, la particella dannata, cioè in inglese God damn che poi l'editore censurò la parola dannata, God damn, e la sostituì con quella God particle e da cui appunto il termine particella di Dio. Questo ovviamente ha creato un enorme interesse nell'immaginario collettivo, a pensare che appunto si possa scoprire la materia di cui è fatta Dio in qualche modo. E quindi ovviamente questo interesse ha risuonato molto bene anche con gli ingenti investimenti che sono stati fatti per poter fare questo tipo di scoperta diciamo appunto da parte dei fisici, ecco. Ascolta Andrea, noi sappiamo che questa particella è stata ipotizzata già quindi precedentemente, ora però sappiamo anche che alcuni scienziati sono stati più cauti nel dire sì, questa è esattamente la particella che noi pensavamo esistesse. Perché? Questa particella è stata ipotizzata molti anni fa, negli anni 30, esattamente, esattamente, da Higgs, il quale ha avuto la fortuna di vivere abbastanza per poter vedere, negli anni 50, quando Higgs aveva 30 anni, ha avuto la fortuna di vivere abbastanza per vedere la sua predizione realizzata, no? E molto probabilmente, diciamo, questa scoperta si completerà anche nell'assegnazione di un premio Nobel per questo fisico teorico inglese che adesso, insomma, vive il suo momento di gloria, ecco. E questa particella, diciamo, rappresenta, tanto anche per dire che cos'è un po' il bosone di Higgs, rappresenta la particella associata al campo di massa. Allora, in parole povere, quando pensiamo alle forze fondamentali dell'universo, come la forza elettromagnetica, la forza nucleare, eccetera, i fisici, per poter rappresentare i campi che vengono associati a queste forze, pensano a delle particelle fondamentali, cioè ogni campo c'è associata a una particella fondamentale. Per quanto riguardava la massa, la massa era un po' una questione difficile da risolvere, perché la massa è una proprietà di tutte le particelle, cioè le particelle hanno certe proprietà, tra cui la massa, e non si sapeva bene come venisse fuori, cioè non c'era una spiegazione chiara di come questa proprietà delle particelle venisse fuori, finché David Higgs non ipotizzò anche per la massa un campo, un campo che permea tutto l'universo e che quindi di fatto dà massa alle particelle. Ora, il rimanere cauti è un atteggiamento tipico degli scienziati prudenti, perché molto spesso la scienza, ovviamente, attraverso gli esperimenti, quindi i perfezionamenti sperimentali e anche le nuove idee teoriche, pur partendo da una posizione, arriva a posizioni totalmente diverse. Il fatto che questa particella sia stata inseguita per così tanto tempo e non sia stata osservata anche in grandi acceleratori come precedenti all'LHC, insomma, l'EP, gli acceleratori lineari, eccetera, faceva pensare che forse questa particella non esisteva affatto e che quindi il modello standard andasse rivisto in qualche modo. Una domanda, forse un po' provocatoria, ma al cittadino medio, anzi, all'uomo o alla donna comune, quale potrebbe essere l'implicazione più diretta nella vita di ognuno di noi, conseguente alla non predizione, ovvero alla non conferma di questo modello standard? Ovvero, cosa sarebbe successo se questa particella non avesse confermato questo modello standard? Diciamo, per l'uomo comune, probabilmente il giorno dopo, diciamo, della non scoperta del bosone di Higgs, anche se, ripeto, è più facile parlare un giorno dopo di una scoperta piuttosto di un giorno dopo di una non scoperta, perché potrebbe durare anche anni una non scoperta, finché la gente si convince che non esiste, insomma. Non cambierà forse quasi nulla per l'uomo comune. In realtà, diciamo, per l'uomo che invece cerca di capire qual è il tessuto della realtà, cosiddetto il tessuto del cosmo in cui viviamo, qualcosa cambia, perché l'idea di avere una comprensione, se non altro, generale di quelle che possono essere, diciamo, le fibre fondamentali che compongono il nostro cosmo ci permette di, insomma, di avere, se non altro, una prospettiva più definita, invece che rimanere nell'indefinito, no, e cominciare a pensare che qualcosa, forse stiamo cominciando a capire di come è fatta la realtà. Quindi, in questo senso, il comprensione del modello standard è stato non solo un'enorme soddisfazione, diciamo, per coloro che lo hanno ideato per tutte le generazioni di fisici. Adesso siamo, a parte, insomma, la vecchia generazione, i vari premi Nobel, come Rubia e altra gente che hanno completato, che hanno cominciato, ha contribuito notevolmente a completare il quadro e anche le nuove generazioni che si sono già trovate questa eredità, insomma, di tale lavoro. Quindi, soddisfazione per loro, ma anche per le persone comuni che, non essendo fisiche, magari capiscono che qualcosa, insomma, la comunità dei fisici, in generale, insomma, gli uomini, riguardo la realtà, cominciano a capirla. Ecco, questo è il punto. Ascolta, beh, certo, una sorta di premio di riconoscimento poi all'intelletto umano, il fatto di avere una consapevolezza maggiore della realtà in cui viviamo. Sì, diciamo, in parte, diciamo, lo scopo della ricerca e della conoscenza è anche autolaudativo, insomma, la gente cerca anche di trovare nella ragione umana, insomma, un po' l'idea illuminista, no? Cioè, la ragione come luce per guidarci nella vita. Almeno, sappiamo oggi anche che molte delle ricadute tecnologiche delle ricerche fondamentali come quelle sulle particelle poi hanno dei risvolti pratici, nel senso che molta delle tecnologie che è stata sviluppata a livello, per esempio, di, penso, tutta la sensoristica elettronica che viene usata in questi acceleratori, che è molto complicata, poi entra nelle case, nelle vite tutti i giorni. Sempre sappiamo che i magneti che sono stati utilizzati per questo superconduttore, in realtà poi vengono utilizzati, credo, anche in questi giorni, comunque, sono stati poi sviluppati anche per applicazioni terapeutiche in campo sanitario. Sì, esattamente, diciamo, la tecnologia dei magneti superconduttori che è stata spinta fortemente dalla ricerca fondamentale nel campo della fisica delle particelle e oggi impiegata in tecniche diagnostiche come l'NMR o l'imaging, la risonanza magnetico nucleare, insomma, quella che uno fa quando ha un problema, insomma, articolare o un problema in parti difficili da diagnosticare, come, insomma, tumori al cervello, eccetera. Sono tecnologie che sono state portate, diciamo, a un livello superiore anche grazie allo sviluppo dei magneti superconduttori usati nella fisica delle particelle e lo sviluppo soprattutto dei fili superconduttori che servono per poter accelerare le particelle, l'energia necessaria per poter fare queste rani scoperte. Sul bosone di Higgs è stato detto e scritto molto, anche da scrittori e riviste non propriamente del settore. Una delle varie cose che ricordo era appunto questa particella che ha il potere di aggregare la materia, un po' come avesse il potere di farla nascere dal nulla. Ragionando un po' con la fantasia che poi è lo strumento principale, penso, della ricerca pura, quindi l'intuizione, quale potrebbe essere una possibile o possibili implicazioni pratiche dell'avere il potere quindi di creare qualcosa dal nulla? Se potessimo creare la materia dal nulla, penso che, diciamo, non ci sarebbero frontiere in quello che l'uomo potrebbe fare. E in qualche modo, diciamo, qui si arriva quasi a quel potere che l'uomo non ha e che appartiene solamente a Dio, no? Cioè l'idea della creazione ex nihilo. Però in realtà il bosone di Higgs, diciamo, non è che ci permetterebbe di controllare questo tipo di potere, no? Cioè la scoperta del bosone di Higgs è semplicemente la conferma di un modello teorico che sostiene di fatto che la massa non è nient'altro che una proprietà in generale di qualsiasi tipo di forma di materia che, interagendo con questo campo, a seconda del tipo di interazione, diciamo, trova più o meno difficoltà nel potersi muovere nell'universo. Perché poi di fatto la massa, anche nell'intuizione comune, no? È un modo molto semplice per definire questo concetto stratto come la massa. Comunque poi utilizziamo tutti i giorni, insomma. Quando uno si muove, quando uno deve portare dei pesi, cioè sa la differenza tra una cosa più massiva o non massiva, insomma. Una cosa più pesante o meno pesante. Perché la massa, ragionando in questi termini, ha più a che fare con il volume o con il peso di un oggetto, in sostanza? Ecco, adesso senza entrare in questioni di fisica, diciamo, del primo anno, così, elementari o introduttive, diciamo, la massa ha a che fare sostanzialmente con, così come lo intendiamo noi su questo pianeta, insomma, con la gravità, no? In realtà esiste la massa anche in assenza di gravità. Nel senso, se uno fa un po' uno sforzo di immaginazione e si immagina di dover allontanare fra di loro due rocce nello spazio in assenza di gravità, cioè in assenza, diciamo, della gravità di un pianeta, comunque fa più fatica, no? A seconda delle dimensioni di queste rocce. E ovviamente anche a seconda del contenuto di queste rocce, cioè di quanti atomi, quindi dalla densità degli atomi che ci sono in queste rocce. Quindi... Mi viene in mente la scena dell'astronauta che saltella sulla Luna. Con questi salti, diciamo, che sulla Terra sarebbero impossibili. Esatto. Questo perché, appunto, la massa, diciamo, esiste una massa, cosiddetta massa gravitazionale, che dipende dalla forza di gravità, no? Quindi, comunque, quando ci sono due corpi c'è una trazione gravitazionale, c'è una forza gravitazionale. Però esiste anche una massa, cosiddetta massa inerziale, che è indipendente, diciamo, dalla forza di gravità e che è semplicemente legata, adesso lo sappiamo, dalla proprietà che hanno le particelle, no? Di interagire con questo campo, il campo di X, e a seconda di quanto fortemente interagiscono con questo campo, trovano una resistenza oppure no. Questa, diciamo, possiamo immaginare al campo di X, il campo di X come una specie di melassa cosmica, sparpagliata in tutto il cosmo, e maggiore, diciamo, la nostra interazione con questa melassa, più siamo frenati, no? Nel poterci muovere liberamente nell'universo, meno la nostra interazione e meno siamo frenati. Addirittura ci sono le particelle che non hanno assolutamente interazione col campo di X, come i fotoni, e si possono muovere in maniera totalmente libera nell'universo. Da qui la velocità della luce, esatto. Ascolta, un'ultima domanda, Andrea. Ok, ci hai spiegato sostanzialmente questo campo di X, ma a questo punto come pensi che questo tipo di scoperta possa avere, ha o addirittura avrà, delle ripercussioni su quella che è poi le concezioni di coloro che credono in un Dio o comunque in un essere superiore e quindi in una realtà soprannaturale? Beh, allora, diciamo, c'è da dire questo, che l'associazione del campo di X, la particella di X al concetto di Dio, secondo me, è totalmente, diciamo, un artefatto letterario, nel senso che è stata utilizzata per creare interessi in una questione che di fatto già è interessante per chi si occupa di fisica o comunque per la comunità scientifica e, diciamo, per la conoscenza in generale dell'umanità, è interessante per definizione. Per quanto riguarda il nostro aumento di conoscenza dell'universo e per chi è credente, appunto, per chi crede in Dio, sicuramente è un aspetto interessante perché sapere che ogni cosa è stata pianificata da un creatore ci fa capire meglio quali sono gli aspetti del creatore, cioè sappiamo già che il Signore, insomma, ha organizzato l'universo secondo delle leggi ben definite e ben strutturate e pensando ad ogni dettaglio, quindi questo ci permette di capire meglio il carattere del creatore. Per chi non è credente, secondo me è stato comunque un elemento interessante perché di fatto anche persone notoriamente ate o comunque materialiste si sono avvicinate in qualche modo a concetti spirituali, cominciando a parlare senza temerlo, senza usarlo in maniera diciamo così un po' blasfema del concetto di Dio, no? Quindi se non altro questa grande scoperta, questo grande momento di discussione che c'è stato in seguito alla scoperta del bosone X, è stata un'occasione per riavvicinare persone, magari anche tradite un po' dalla loro relazione con la religione, di rivicinarle a concetti spirituali come l'esistenza di Dio e il fatto che questo Dio intervenga in maniera materiale, appunto, nella realtà. Quindi possiamo dire brevemente che con la scoperta di questo campo di X in realtà si va ad aggiungere un tassello a quella realtà che sempre più appare complessa e invisibile? Sicuramente, diciamo adesso che in qualche modo il modello standard è completo non è che abbiamo capito tutto, anzi ci sono ancora enormi interrogativi che si aprono. Uno degli interrogativi più grandi che negli ultimi dieci anni, diciamo, sta lasciando così un po' abbeffati la comunità dei fisici, dei cosmologi nel mondo è la materia oscura, cioè si spera che l'LHC, che è appunto questa grande macchina costruita tra la Francia e la Svizzera, dove vengono fatti accelerare particelle, scontrare, eccetera, dove si è scoperto X, possa rispondere a un po' degli interrogativi che ci sono riguardo la materia oscura, diciamo, questa materia che in qualche modo sembra tenere insieme l'universo per così com'è. Noi sappiamo che oggi sappiamo che solamente, diciamo, il poche per cento dell'universo che conosciamo è effettivamente parte dell'universo, cioè nel senso poca della materia che c'è nell'universo riusciamo a vederla, sia nella radiazione visibile che negli altri tipi di radiazioni, cioè raggi X, raggi gamma, eccetera, ma c'è molta materia che serve appunto per giustificare l'universo così come è composto in galassie, in ammassite di galassie, eccetera, che non vediamo e che non sappiamo che cosa sia. Il bosone di X non è sufficiente, diciamo, a spiegare questa cosa che non vediamo, quindi ci deve essere dell'altro. Bene, quindi la scienza possiamo dire che più sa e più scopre poi di non sapere, nel nostro caso. Sì, diciamo, lo scienziato in generale dovrebbe ricevere non poche lezioni di umiltà, dalle scoperte che fa, perché man mano che uno studia la natura e investiga i fenomeni del cosmo, si rende conto che la complessità delle leggi, la vastità dei fenomeni è tale che ovviamente c'è molto di più da scoprire di quello che si riesce a conoscere. E questo, diciamo, in generale dovrebbe creare umiltà, ecco. Che arroganza. Grazie Andrea ancora del tuo tempo e della spiegazione che ci ha dato su queste recenti scoperte scientifiche. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino adesso, fino a questo momento. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto qui su Televive. Grazie.